in base alle pagine ti stai allargando comunque sono Massimo McFly non Marti Maxime McFly comunque la cosa che tu non sai è che in realtà i due ragazzi qui non sapevano come si scriveva Gogol e quindi quando hanno registrato il dominio hanno registrato Google scritto Goggle in realtà due ore dopo che hanno registrato il marchio erano chiamati la cugina e gli ho detto zio guarda che qua hai sbagliato però hanno detto ormai il danno è fatto teniamocelo così ed è diventato un marchio di fabbrica come dire è diventato il logo ce l'hai il tatuaggio sul culo allora comunque noi dopo continueremo e andremo avanti a svelarvi molte 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 cose su Google perché no 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 basta è la regia è la regia e altri addori ciao sono Walter è tornato da Monza Brianzo da Monza dove c'è il gran premio della Formula 1 e dove quest'anno la Ferrari ha fatto cagare il tutorial di oggi è come chiudere un sacchetto della spazzatura vedete il sacchetto unite i due lembi fate un nodo e buttate tutto nel cestino cazzo basta finito ma che tutorial è ma questo si può intromettere per fare dei tutorial del genere questo si intromette per spiegarci come si butta la spazzatura dai va bene va bene molto bene grazie Walter speriamo che vi sia stato d'aiuto grazie a tutti è pompa questa musica grazie a tutti 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 grazie a tutti